buongiorno a tutti amici e bentornati oggi prepariamo una conserva fatta in casa le pere sciroppate sono buonissime sia per essere mangiate così che aggiunte alla macedonia oppure per accompagnare una pallina di gelato alla vaniglia o per fare una bella torta ci occorreranno pochissimi ingredienti due chili e mezzo di pere le laviamo e asciughiamo e le sbucciamo e naturalmente le priviamo dei semi sterilizziamo i vasetti in acqua bollente per qualche minuto aggiungiamo alla fine anche i tappi che non dovranno permanere nell'acqua bollente per più di due minuti quindi li scoliamo fate molta attenzione a non bruciarvi e li disponiamo su un canovaccio pulito adesso prepariamo lo sciroppo con un litro di acqua e 500 grammi di zucchero adesso possiamo riempire i nostri vasetti con le pere e versiamo lo sciroppo bollente chiudiamo quindi con il tappo e mettiamo a sterilizzare i vasetti per almeno 15 20 minuti dopodiché chiudiamo il fuoco e lasciamo raffreddare completamente all'interno della pentola quando i vasetti saranno freddi li capovolgiamo e in questo modo si formerà il sottovuoto facciamo fare clic al nostro tappo e possiamo riporre in dispensa le nostre pere sciroppate che si manterranno per almeno tre mesi una volta aperto il vasetto dovrà essere conservato in frigorifero se volete potete mangiarle anche subito o il giorno dopo sono davvero buonissime vi ricordo che con questa ricetta potrete preparare delle macedonie potrete mangiarle così accompagnare del gelato alla vaniglia o farcire una bella torta alla frutta bene spero che questa ricetta vi sia piaciuta se così non dimenticate di iscrivervi al canale lasciare un like cliccare sulla campanella e condividere questo video con i vostri amici iscrivetevi anche alla mia pagina instagram per tante nuove sorprese un bacione alla prossima ciao